Questa mattina i lavoratori dell'Ippodromo di Palermo hanno protestato occupando parte di Viale del Fante. I dipendenti dell'Ippodromo infatti non ricevono lo stipendio dal mese di luglio. Chiediamo i nostri soldi, sono sette mesi che non ci pagano. I ministeri competenti non erogano i soldi del Monte Premi, delle corse dei premi al traguardo, che sono l'unica fonte di guadagno nostra. È dal mese di giugno che non prendiamo soldi. Le famiglie sono allo stremo e le spese ci sono per dare a mangiare i cavalli. Vogliamo dare forza alla nostra protesta, nel senso di dare alle istituzioni cittadine, innanzitutto, e a livello nazionale, di dare forza alla nostra protesta. Quanti siete? Noi lavoriamo all'interno dell'Ippodromo, ci sono 200 persone che lavorano giornalmente. Noi abbiamo una percentuale sul gioco totale che è l'unire in cassa. È da luglio che non ci danno le percentuali che ci spettano di diritto. Stiamo correndo sulle nostre forze, con quello che rimane, e già siamo arrivati proprio ai minimi termini. Abbiamo dovuto macellare in tutta Italia quasi 2000 cavalli, e questa è stata una cosa che ci ha particolarmente fatto soffrire, perché dovevamo per forza andare avanti e in qualche maniera dovevamo trovare le risorse per poter continuare. Allora abbiamo eliminato tutti quei cavalli che si potevano eliminare, che la gente poteva comprare. Loro dalle riunioni di Palermo incassano circa 500 mila euro di gioco ogni riunione, ce ne sono otto nella nostra città, ed è un incasso di quasi 4 milioni di euro. È chiaro che non è che sono tutti nostri, a noi ci spetta la percentuale che ci spetta. Faccia un po' il conto per tutti gli ipodromi italiani, ogni mese cosa incassano di gioco. Quindi una percentuale per noi, anche minima, su quello che loro si sono incassati, ce la dovrebbero ritornare. A noi incassano quasi 30 milioni al mese.